Ciao delicatissime iguane, oggi mi sentivo ispirato, mi sono un po' lanciato, sarà l'amore, saranno più che altri 35 gradi umidi Come sapete la priorità la do sempre agli occhi, che infatti sono sempre la prima cosa che guardano le donne Ecco oggi è la cazzata alla biannetta, una volta fatti quelli mi regalo per il resto del disegno Ho voluto fare tutto il corpo usando la palette della terra, la terra dei lombrichi, la terra inteso come nostro pianeta E vi dico, per fare i rettili ce ne sono due, o passi i quattro eoni a fare squama per squama Oppure provi a semplificare, che è veramente difficile Quindi sì, oggi è un po' rischiato, sperimentato Però non si vuole rimanere un'iguana generica, ogni tanto bisogna anche provare E io vorrei tanto essere un'iguana speciale